Confidenze a microfono aperto con Matteo Salvini, metafore poco efficaci, negazioni su negazioni, tutti gli errori di comunicazione di Giorgia Meloni nel suo discorso di oggi. Così finiamo alle tre, una frase che probabilmente non diremmo neanche in un'assemblea di condominio quando volessimo andarcene prima, viene detta nel momento più sacro della presentazione di un governo alle Camere, in questo caso alla Camera dei Deputati. Errore doppio, non solo per il contenuto, ma anche perché in questa maniera non capiamo più chi è che parla. Parla il testo autonomamente quando Giorgia Meloni lo legge, oppure parla il retroscena, cioè la frase che Giorgia Meloni dice a Matteo Salvini. C'è ancora una volta il problema della comunicazione diegetica o extradiegetica, un problema che c'era anche con Mario Draghi, quando leggeva le cose e poi alzava lo sguardo e prendeva le distanze da quello che stava leggendo. Ecco, qui accade una cosa simile con la confidenza a Salvini. E poi ancora negazioni su negazioni. Meloni chiude il discorso alla Camera, a volte falliremo ma non indietreggeremo e non tradiremo. E ancora, non sarò la cheerleader di nessuno, le donne non hanno nulla da temere con noi. Ma se non sarà la cheerleader di nessuno, non c'è da temere nulla, non sarebbe meglio usare forme affermative anziché utilizzare, creare immagini mentali da dover negare per affermare qualcos'altro. E allora noi siamo qui per tentare di ricucire le prese strappate, fissare le assi dello scafo, superare le onde che si infrangono su di noi con la bussola delle nostre convinzioni a indicarci la rotta verso la meta prescelta e con un equipaggio che è capace di svolgere al meglio i propri compiti. Ed è tornata anche la metafora della barca e della tempesta che già avevamo sentito tempo fa a una convention di Milano di Giorgia Meloni. Ecco qui il problema ancora una volta è la chiarezza esplicativa del linguaggio. Perché non si definiscono i referenti extralinguistici? Se io uso una metafora, continuo a creare analogia con la realtà, non sarebbe più facile descrivere la realtà anziché i pezzi di una barca. Una lezione di nautica è una cosa, un discorso di insediamento di un governo è un'altra cosa. E per concludere, spezzone finale. Voglio dire al collega Su Amoro, Su Amoro, scusami, che tutti ci sentiamo scolari della storia, sai? Non ho dato del tuo a nessuno. Ah vorrei dire, chiedo scusa, all'onorevole collega. Va bene, va bene, va bene. Ah era il sai, scusa. Ha ragione, sai, ha ragione, ha ragione. Avete ragione, errore mio, calmi.